Succede praticamente che dal primo dell'anno, sono passati 60 giorni, per 47 volte abbiamo superato i limiti sulla concentrazione di polvere, tenendo presente che la concentrazione massima tollerata, non consentita, tollerata, è di 35 giorni durante tutto l'arco dell'anno, per cui abbiamo già sforato, siamo fuori legge. Oggi abbiamo voluto dare dimostrazione che purtroppo non è solamente anche una concentrazione, anzi una media giornaliera, ma c'è anche una concentrazione in alcuni ambiti urbani dove la preoccupazione deve anche aumentare, nel senso che ci sono dei luoghi, gli autobus, i luoghi dove ci sono molte persone che si ritrovano davanti alle scuole, piuttosto che in ospedale, dove le concentrazioni di polveri sono assolutamente elevate, per cui è indispensabile che si attuino degli interventi, non si può sempre sperare nella pioggia e nel vento, perché queste polveri si decadano. Quali interventi? I interventi sono di carattere strutturale, sicuramente il più importante è trasferire tutto il trasporto personale, che si fa con la propria auto, trasferirlo su un autobus. Il trasporto pubblico di massa è sicuramente l'elemento che va ad incidere maggiormente. Poi noi abbiamo proposto molte volte, anche se inascoltati, la limitazione del traffico negli ambiti urbani, le ZTL e soprattutto la diminuzione della velocità in questi ambiti qua.